La fotografia europea si incontra a Matera. Gli scatti e lavoro di ricerca di grandi fotografi italiani e stranieri ed esperti internazionali di immagine per promuovere territori, risorse e opportunità della città dei Sassi e della Basilicata. È il percorso quinquennale del progetto Matera European Photography promosso dall'Associazione Matero Cultura Fotografica, ideato e curato da Cosmo Laera, docente dell'Accademia delle Belle Arti di Brera. L'anteprima è in una a due giorni tra Palazzo Viceconte, Palazzo Lanfranchi e Casacava, dove professionisti del settore, amministratori pubblici e operatori turistici hanno condiviso proposte e progetti per affrontare in maniera organica e con competenze qualificate gli sviluppi possibili all'interno di questo territorio multiforme attraverso la ricerca fotografica autoriale, fornendo al contempo un'immagine e un racconto contemporanei della città, ancora oggi legata allo stereotipo di luogo arcaico. Adesso siamo in una fase di anteprima, come abbiamo presentato, non sono state ancora delineate nessuna linea di produzione, nessuna linea culturale di questo progetto, è un'anteprima. In questa anteprima abbiamo avuto la possibilità di incontrare voglio dire gli operatori, ma anche gli attori di questa fotografia e quindi noi in questi due giorni stiamo cercando di mettere a punto, anche cercando di trasmettere un po' di energia alla città, ma anche prendere energia dalla città, per poter sviluppare delle idee progettuali da realizzare anche in collaborazione con le istituzioni, con i cittadini, con le associazioni. Ecco, vogliamo essere all'interno di questo luogo a pieno titolo, condividendo tutto quello che c'è da condividere a livello di tematiche, ma anche a livello di progettualità. E Matera può essere la capitale della fotografia? A noi vorremmo che Matera, perché gli spetterebbe tranquillamente la capitale delle immagini, non più tanto della fotografia, che è diventato ormai un termine lontano. In questo momento parliamo molto più facilmente di immagini, quindi immagini, linguaggio delle immagini, e noi vogliamo vivere questo linguaggio all'interno di tutti gli altri linguaggi, alla pari, e quindi ecco perché nasce un forum di confronto non solo con gli operatori della fotografia, ma anche con altri operatori, che sono quelli degli altri linguaggi, naturalmente. Molti sono presenti proprio legati al linguaggio della scrittura e non solo. Adesso abbiamo anche l'audiovisivo, abbiamo tantissime altre piattafone che comunque dobbiamo condividere tutti insieme. In tutto questo c'è il coordinamento dell'associazione Matero. Sì, Matero Cultura Fotografica è un'associazione che nasce qualche anno fa con questo intento, di promuovere la cultura fotografica nella città di Matera e sul territorio della Basilicata. E questa è un'occasione importante, che è un punto di inizio, che ci consentirà nei prossimi anni di far conoscere la fotografia, perché Matera deve entrare a pieno titolo in Europa, sappiamo bene l'appuntamento che ci aspetta nel 2019, con un'immagine nuova, un'immagine contemporanea. Siamo fermi un po' con la fotografia agli anni 70, quindi abbiamo l'esigenza, abbiamo sentito l'esigenza di aiutare questa città, questo territorio, a presentarsi in maniera nuova all'Europa. Direi un'occasione abbastanza unica. In Italia non ho memoria di un'altra cosa fatta con queste stesse caratteristiche, cioè in cui c'è un punto di incontro tra operatori legati al mondo della fotografia e quindi un confronto da punti di vista diversi. critici, personalità che si occupano nel mondo della cultura in quanto direttore di musei, fotografi. Quindi diciamo una visione, un confronto a 360 gradi legato alla fotografia e io credo che appunto sia un momento unico, un'occasione che spero si possa ripetere in futuro, ma fino a questo momento è la prima volta che accade. Matera ha la location giusta? Matera è una location giusta, la Matera ha delle caratteristiche che la rendono unica, perché è un territorio piccolo, straordinario da un punto di vista della percezione visiva e anche della sensazione, cioè dell'accoglienza rispetto al paesaggio, per come è costruita, per come è articolata. È un posto da questo punto di vista che si offre moltissimo alla realizzazione di un punto di incontro che può diventare veramente un punto di riferimento quasi fisso direi, per occasione di questo tipo, o analogo e anche in altri settori. perché proprio per le caratteristiche geografiche, diciamo, per come è posizionata e per la straordinarietà, diciamo, la sorpresa del territorio da un punto di vista visivo. Focus oggi sulla cultura visuale, ma quali sono le nuove frontiere? Ma diciamo che la fotografia si apre a moltissime novità, a moltissimo anche modo di interpretare la realtà. Pensiamo a quello che accade oggi con i telefonini, per esempio, è un modo per trasferire, per riportare, per raccontare la realtà assolutamente nuova che non esisteva prima. Quindi si aprono settori diversi. Dove arriveremo non lo so, perché diciamo dipenderà dallo sviluppo, come dire, tecnologico futuro e io non sono per niente in condizione di poterlo immaginare nemmeno. Detto ciò, credo che la fotografia abbia avuto una trasformazione del linguaggio importante negli ultimi anni, che sia diventata un linguaggio ancora più universale rispetto a quello che non era prima, anche se purtroppo non sempre questa università di linguaggio è stata accompagnata da una effettiva consapevolezza e quindi maturazione della parte culturale. Ecco perché anche incontri di questo tipo possono essere la base di partenza per poter creare, diciamo, quella base, quel tessuto che permette di poter affrontare, diciamo, con maggiore consapevolezza un linguaggio così nuovo come quello. non solo nuovo, ma diciamo antico e nuovo nello stesso momento come quello della fotografia. Sguardi d'autore sulla città dei Sassi, un suo primo commento su questo progetto e sulla città che ha avuto modo di visitare e ammirare. Beh, intanto la città la conoscevo ed è stato un magnifico ritorno perché ho trovato una città assolutamente rinnovata, ripensata e risistemata. Veramente complimenti a tutti quelli che stanno lavorando. A proposito di questo forum posso dire che sono stati due giorni abbastanza intensi dove ho sentito e visto soprattutto perché parliamo di immagini e di fotografia moltissimi progetti e ho sentito anche qualche intervento legato alla metodologia perché le immagini da sole non sono sufficienti. Le immagini bisogna raccoglierle, riorganizzarle, raccontarle. Io credo che l'appuntamento del 2019 sia un appuntamento importantissimo perché potrà contribuire alla conservazione della memoria di questo luogo ma dovrà servire soprattutto a rilanciare la memoria, a rilanciare Matera. Quindi io penso che tutti questi fotografi bravissimi che noi abbiamo visto e ascoltato debbano essere poi raccolti metodologicamente per mostrare le loro ricerche che probabilmente saranno questo luogo nel mondo. Questo è diciamo il piccolo contributo che io ho cercato di dare insieme ad altri naturalmente per far conoscere Matera nel mondo. C'è bisogno di un'attività di storytelling profonda che parte necessariamente e obbligatoriamente dall'ascolto. senza l'ascolto e senza la conoscenza non c'è visione e quindi io mi auguro che tutti i fotografi che saranno invitati a fare questo lavoro di storytelling si pongano con umiltà nei confronti dell'ascolto di un luogo così sacro mi viene da dire che merita tanto rispetto. Uno storytelling che può dare alla città anche un'immagine più moderna e contemporanea rispetto a quella che è attualmente come città presepe città arcaica? Questo è l'augurio che tutti quanti ci facciamo auspichiamo ad uno storytelling contemporaneo che sicuramente parte dal tema dell'antropologia così presente così radicato in questo territorio ma che sappia poi come dire fare i conti con una modernità addirittura con una contemporaneità che è assolutamente necessaria. Ho incontrato anche molti abitanti cittadini di questa città e ho sentito in modo molto forte questa necessità di trovare un momento di stacco io penso che se diciamo vogliamo vincere questa scommessa di proporre Matera come luogo come punto di riferimento nel mondo della cultura ecco io credo che almeno una iniziativa permanente debba essere creata qua dentro non possiamo pensare di proporre questa città come capitale della cultura soltanto nella dimensione effimera questo qualche cosa io non lo so che cos'è però forse nelle nostre parole già emerso non può essere soltanto la dimensione arcaica e antropologica però può essere la dimensione dello storytelling ecco allora che cosa vuol dire creare oggi una situazione sto pensando naturalmente a delle realtà formative per esempio della realtà e che sappiano formare dei giovani dei nuovi storyteller di cui noi abbiamo tanto bisogno perché non soltanto Matera ma tutto questo paese va raccontato di nuovo noi non possiamo ancora essere riconosciuti e percepiti come il paese del neorealismo della dolce vita non se ne può più anche da un punto di vista iconografico c'è davvero ormai come dire un'isteria da parte da parte anche di chi viene e poi vuole trovare queste cose e non ci sono e quando le trova le trova così forzate che alla fine poi le detesta e questo cortocircuito questo questo isterismo noi lo dobbiamo combattere e lo dobbiamo assolutamente rifiutare rispetto ai nuovi mezzi a disposizione c'è stato un espload di appassionati di fotografia qual è il suo parere a riguardo e un consiglio su come riconoscere una foto realizzata da un professionista rispetto ad un amatoriale beh il mondo della fotografia insomma è cambiato parecchio oggi godiamo mettiamola così del contributo di tutti quei produttori di immagini che non arrivano direttamente dalla fotografia professionale io credo che uno degli elementi distintivi per poter riconoscere non tanto una buona fotografia ma un buon fotografo è proprio quello che abbiamo detto durante questa intervista cioè la capacità di sviluppare un racconto io penso che appunto le scimmie sono molto di moda grazie a Sanremo in questo periodo se noi dessimo in mano ad una scimmia una macchina fotografica digitale per una giornata interessante anzi è già stato fatto questo esperimento sicuramente qualche buona immagine la fa se poi noi chiediamo a questi simpaticissimi animali di raccontarci una storia non lo sanno fare quindi questa è la differenza a me le buone i singoli immagini interessano molto poco per il mestiere che faccio di direttore di giornali di organizzatore di mostre eccetera a me interessano le storie mi interessa la fotografia nel momento in cui questa è in grado di creare delle relazioni tra gli uomini quando questa è occasione di scambio e questo naturalmente può avvenire soltanto quando c'è lo sviluppo di un racconto quando ci sono le singole fotografie vanno bene per essere condivise ci divertiamo molto anch'io le uso moltissimo quando vado in giro per mandarle ai miei amici ai miei figli però appunto quella non è fotografia quelle sono immagini che hanno come dire una memoria corta le altre anzi non hanno nemmeno la presunzione di farsi memoria tutte le altre invece come dire vivono di una dimensione non è che debbano passare tutta la storia per forza ma che hanno quello spessore che ti consente di avere quel fremito quel sentimento nei confronti di quello che ti stanno raccontando la dimensione culturale dell'evento proposto da Materò vuole anche posizionarsi tra le esperienze di eccellenza nell'ambito dell'offerta culturale e diventare un momento rilevante per la formazione e la promozione di talenti locali ambizioni per la città condivise anche dal sindaco De Ruggeri questo è un evento particolarmente importante questo di oggi quindi io ringrazio gli organizzatori perché posso dire qui c'è il gota italiano e quindi era l'occasione per dire che il comune nella sua visione programmatoria ritiene di creare anche per la fotografia le officine della cultura com'è nel programma e com'è nelle previsioni e com'è anche nella previsione finanziaria che già abbiamo quindi una delle officine della cultura sarà destinata all'immagine e quindi comprenderà cinema, visual e fotografia perché come ho detto noi non possiamo più vivere di mostre ma dobbiamo vivere di scuole scuole che insegnino a fare fotografia per insegnare i nuovi messaggi e i nuovi linguaggi della fotografia e Matera è una prateria visiva di stimolazione per coloro che intraprendono questi percorsi creativi sulla immagine quindi c'è una coerenza straordinaria tra Matera l'immagine la fotografia la scuola l'educazione e anche la promozione e anche la promozione